come gli scrivi anche noi possiamo cadere nella trappola di credere in un gesù fatto a nostra somiglianza un messia che si adatta al nostro modo di ragionare e di agire invece dio va oltre le nostre aspettative e per questo non cessa mai di sorprenderci la meraviglia che ci viene da dio ci darà la forza di continuare a vivere per gli altri allora comprenderemo che siamo chiamati ogni giorno ad andare oltre il nostro limitato modo di capire il mondo e scopriremo un modo nuovo di vivere una vita piena e felice come reagisci di fronte agli sbagli degli altri e come ti senti quando gli altri giudicano le tue azioni vivi la giornata di oggi sforzandoti di non giudicare nessuno secondo le apparenze